Sono una biologa, ho lavorato quasi dieci anni come ricercatrice, poi è arrivato un momento in cui ho deciso di abbandonare provette e pipette. Non mi bastava più studiare e conoscere le malattie, ma volevo guardare negli occhi le persone, volevo comprendere i loro bisogni, orientarle e sostenerle nella risoluzione dei loro problemi di salute. Ho seguito un master in management per la sanità e sono arrivata qui come stagista. Oggi sono responsabile dell'offerta clinica. In una mia giornata tipo, osservo i pazienti, chiacchiero con i medici, incontro i fornitori e discuto con i miei colleghi. A questa fase ne segue un'altra di studio, un po' più solitaria, durante la quale costruisco la prestazione. Chi coinvolge, quali caratteristiche ha e quante risorse richiede. A questo punto la vedo nascere e la seguo nei suoi primi passi. Il Centro Medico Sant'Agostino mi permette di considerare i pazienti, le loro vite, le loro storie individuali al centro di ogni mia scelta. E questa è la parte del mio lavoro che mi piace di più. La maggiore difficoltà che incontro nel mio lavoro è far quadrare i conti, per riuscire ad offrire delle prestazioni di qualità che siano accessibili a tutti. Se penso al mio futuro, mi piacerebbe sviluppare un'offerta clinica personalizzata su ogni paziente, cucire addosso ad ogni persona un'assistenza corretta per la sua salute e il suo benessere. E credo che il Centro Medico Sant'Agostino, in un'ottica di miglioramento continuo e di forte innovazione tecnologica, sia il posto giusto dove realizzare questo mio progetto.